La comunità di Salvitelle continua a rappresentare un grande esempio di responsabilità e cittadinanza attiva. Ieri cittadini e amministratori armati di scope, palette, sacchetti e guantoni sono scesi in strada rispettando tutte le norme di sicurezza in vigore per tagliare l'erba ai lati delle carreggiate e ripulire le fontane. L'amministrazione comunale retta da Maria Antonietta Scelsa sta portando avanti iniziative di decoro urbano già da inizio mandato. Partite nello scorso mese di agosto quando la sindaca e la sua squadra insieme con la gente del posto si sono rimboccati le mani che hanno pitturato le panchine, la fontanella di piazza San Sebastiano, pulito la fontana in via Fontanelle e le vie del centro storico. Il volontariato civico rientra proprio tra le scelte politiche dell'amministrazione Scelsa e infatti ieri la comunità si è dedicata ad un'altra giornata di pulizie sulle località Fontanelle e Taverna dove hanno ripulito l'area della fontana Pozzillo e tagliato l'erba ai lati delle strade soprattutto in prossimità dei bivi e in altri punti strategici per consentire una maggiore visibilità a chi le percorre. La comunità a Salvitelle è un'unica famiglia e continua ad impegnarsi nella consapevolezza che i singoli cittadini sono i primi frequentatori del piccolo borgo, quindi si rimboccano le mani che provvedono da soli per tenerlo vivibile e decoroso, ognuno da una mano secondo le proprie disponibilità e propensioni. L'esperienza di partecipazione diretta fatta di piccole attività di manutenzione e cura della cosa pubblica ad opera degli stessi abitanti e amministratori è significativa sia da un punto di vista civico che educativo, anche perché è portata avanti con convinzione da tutta l'amministrazione che prende parte attiva alle iniziative di pubblica utilità stimolando la comunità a fare altrettanto. Una scelta politica, ha spiegato più volte la sindaca Scelsa, sia per far fronte alla penuria di fondi che non consente alle piccole municipalità di poter intervenire sempre sulle eventuali criticità, sia per sensibilizzare ed educare alla cultura della responsabilità i singoli cittadini.